bene buongiorno lezione numero 15 oggi non sarà una lezione teorica ma sarà il continuamento la continuazione dell'implementazione di un notepad tra regolette avanzato per intenderci più avanzato del notepad di windows che è triste meno avanzato del notepad più più di cui ho trovato anche i codici sorgenti su ovviamente github perché perché sono nato a fregarmi due icone e allora le icone stavano dentro la cartella dei file sorgenti anche loro hanno una cartella con i sorgenti dove dentro ci sta una cartella che si chiama icons io sono nato a fregarmi icon se notate che c'è cmake quindi non vi ho detto una bugia tutti i software di un certo livello ormai sono basati sul sistema cmake ok ora dovremmo arrivati l'altra volta l'altra volta abbiamo preso delle decisioni progettuali perché abbiamo stilato una lista di responsabilità e accanto le classi che devono assolvere quelle responsabilità quindi main window la gestione dell'interazione grafica in sostanza corrector dovrà un giorno quando avremo lo strumento realizzare la correzione automatica del testo la correzione ortografica e non la correzione insomma vabbè se la parola sta nel dizionario sbagliata scritta male la correggo con quella giusta ma non è un correttore in grado di dirvi se una frase usa un verbo al passato anziché al presente quello è un po più difficile poi la gestione di un documento quindi tutto ciò che concerne il sabotaggio l'apertura di documento e la gestione della sessione di utilizzo cioè se io chiudo e riapro mi piacerebbe come qui in effetti ho riottenere praticamente la stessa sessione quindi le stesse tab aperte lo stesso testo davvero addirittura salva pure la selezione no non ci credo veramente e vabbè ragazzi è fatto davvero bene ha salvato persino il fatto che io avevo selezionato una parola nel testo quindi se io cambio se io cambio file seleziono questo chiudo chiudo significa applicazione morta troppo chiusa e non in background riapro e ristora la selezione quindi ovviamente questi sono alti livelli noi cerchiamo di avvicinarci a questi livelli vedere come si fa il metodo poi vi rende in grado anche di fare queste cose una volta saputo come si fa poi questione di sforzo di quantità di lavoro bene l'altra volta noi abbiamo soltanto fatto l'interfaccia messo i pulsanti non abbiamo realizzato interazioni io ho diviso le interazioni in due tipi quelle complesse che sono quelle che noi facciamo in classe e quelle semplici che ragazzi è questione di mettersi lì e ammasse di pazienza le ho fatte io perché perché innanzitutto non c'è tempo di fare tutto quanto insieme ma perché sono noiose già l'altra volta vi ho annoiato e metti pulsante qui e file layout qui stavolta facciamo oggi qualcosa di più divertente e quindi cosa ho fatto io di interazione semplici che ho implementato per voi ora poi lo vediamo anche il codice è molto semplice chiaramente molto più ricca adesso l'applicazione visivamente parlando beh ho implementato il cambio del font per esempio quindi si apre una finestra di dialogo che mi consente di selezionare un font posso cambiare questo font posso cambiare il colore quindi che ne so detto rosso non ha funzionato non ho premuto ok ecco perché non ha funzionato perché non avevo fatto bene e posso stampare non mi fate stampare ci ho provato stampa effettivamente quindi posso stampare posso fare andu redu va fatto landu del del colore adesso ha fatto landu della scrittura non so se fa anche landu del font no non si può pretendere troppo comunque fando e rdu che tra l'altro dovrebbe fare anche con contro z e su windows si usa contro l'ipsi non tra l'altro quindi si adatta anche al al alla sistema in cui mi trovo e poi l'about l'ho fatto più carino ma questione di spenderci soltanto poche righe cosa ho aggiunto nell'about ho aggiunto non ho aggiunto l'icona l'icona la mette da solo il l'applicazione perché se noi diciamo nel nel costruttore nel costruttore della dell'applicazione se facciamo il set window icon lui setta l'icona dell'applicazione e quest'icona dell'applicazione lui la fa vedere nell'about in automatico senza che io la debba inserire quindi questo ragazzi è un codice html banale in cui ci ho messo il link alla mia email il link al corso e ho scritto che siete anche voi partecipi di questa cosa quindi autopad versione 100 uno strumento per l'editing multi documentale con correzione automatica del testo sviluppato dalla classe quindi voi e voi di tecniche di programmazione 2020 sotto la mia supervisione con le mie email per ulteriore informazioni visita il sito che è il sito del nostro corso copyright 2020 un esitato di cassino e dell'azio nessuno ci può fregare sta applicazione abbiamo fatto noi dobbiamo magari dovremmo un attimino metterci qualche licenza perché non è bello fregarsi le icone degli altri soprattutto quello che ho appena fatto fregato l'icona del notepad più più questa qua quella che il notepad mette nei documenti nelle tab fregato quest'icona qui più altre icone che ho scaricato da internet lo scaricata addirittura alcune durante prima dell'inizio la redizione quindi vabbè messi a posto le licenze a quel punto lo possiamo mettere su github e nessuno ce lo può fregare e nessuno si può mandare a processo cose strane ok però la cosa delle licenze non abbiamo tempo di affrontarla e nel codice come ho fatto a fare queste cose almeno ve le faccio vedere ragazzi veramente semplici come ho fatto a cambiare il font anzi la stampa ho creato una stampante ho creato un dialogo per mandare in stampa e se il dialogo viene accettato il documento corrente lo stampo sulla stampante come si prende il documento corrente questa è l'unica cosa che ho aggiunto all'header nella sezione public ho aggiunto una funzione di utilità che restituisce il documento corrente cioè di tutte le tab prendo il widget attualmente inserito dentro questa tab ora le tab possono contenere widget di qualunque tipo però nel nostro caso noi l'altra volta se vi ricordate abbiamo preso una decisione progettuale quella che il nostro document deve essere un'area di testo editabile tra l'altro provo a fare una cosa molto brutta non lo so se me l'accetterà devo interrompere l'applicazione cioè noi dentro la tab ci possiamo mettere qualunque cosa adesso non so se si incavola parecchio se crasha perché eh no si è incavolato tanto perché io poi faccio altre cose con quel document comunque dentro la tab voi ci potete mettere qualunque cosa pertanto nel momento in cui si dice dammi il widget attualmente selezionato bisogna convertirlo in quello che tu vuoi che tu sai che è noi sappiamo che questa è un'applicazione che gestisce documenti quindi in ogni tab ci può essere solo un documento come si fa la conversione di tipo nel polimorfismo la conversione di tipo si fa utilizzando l'operatore che mette il c a disposizione c più più e il dynamic cast cast sta per conversione dynamic dinamica che il polimorfismo è dinamico cosa fa il dynamic cast se non l'avete mai visto in vita vostra magari sì magari no bisogna scrivere qui tra parentesi maggiore e minore il tipo di conversione cioè a cosa lo vuoi convertire lo voglio convertire a document sempre puntatori ragazzi perché sono sempre polimorfismo ci sono sempre puntatori quindi questo è un puntatore a widget q widget star lo voglio convertire a puntatore a documento e questa cosa la restituisco come puntatore a documento se la conversione fallisce viene restituito il puntatore nullo zero quindi nel mio codice quando io mi chiedo che ne so per esempio qua file andu io mi chiedo if current document current document andu che significa if current document che qua dentro viene preso il widget corrente viene convertito a documento se tutto ha successo viene restituito un puntatore che contiene un indirizzo diverso da nullo e quindi la if è true un qualunque numero diverso da zero è true se invece zero è falso e quindi qua dentro non ci entra quindi il nostro codice sarà pieno di if current document perché se non c'è un current document per esempio quando parte l'applicazione magari non c'è nessun documento aperto nemmeno uno vuoto queste cose ovviamente io non posso dare un comando ad un documento che non esiste crasherebbe l'applicazione quindi questo è il significato di current document vabbè il print ragazzi ve l'ho già spiegato ma una volta che uno va nella documentazione come funziona la stampante sotto le righe di codice come funziona l'andu l'andu è un metodo del q text edit quindi non l'ho scritto io l'andu l'ha scritto chi ha scritto q text edit quindi io devo solamente invocare andu nel q text edit quindi nel documento vedete il bello dell'editarietà il documento è un q text edit quindi eredita tutti i suoi metodi andu redo print set font set del font e infatti font come si fa se non c'è un documento non vado avanti perché inutile fare scegliere l'utente un font se non c'è documento da cambiare finestre di dialogo le finestre di dialogo sono tutte quante modali nel nostro nella nostra applicazione quindi si risolvono in una riga di codice una funzione statica per esempio in questo caso get font se fosse stato scegli un intero sarebbe stato get integer se fosse stato un colore get color se fosse stato un file get open file sono tutte di una riga con get quello che ti pare vuole sapere dove mettere la risposta get font perché può essere accettato o non accettato quindi booleano se è accettato noi settiamo il font e il get font vuole sapere qual è il font attualmente selezionato cioè quello appunto questo è un getter del documento e poi vuole sapere il parent come sempre noi la finestra di dialogo la centriamo rispetto a dis cioè la finestra principale e quindi c'è set font color action trigred è uguale se non c'è documento non faccio niente il colore dove lo piglio lo piglio da get color get color vuole sapere qual è il colore attualmente selezionato è quello che sta nel get text color il colore viene messo in una classe in un oggetto q color il font invece era in q font poca fantasia ragazzi un colore sarà in q color un fondo sarà in q font aggiungete q e ci avete il nome della classe che vi serve se esiste ok sì questa è una bella domanda in realtà ci sono i modificatori di tutta l'area come font e poi ci sono i modificatori di blocco di paragrafo il fonte è un modificatore di paragrafo quindi font il fondo il colore il colore agisce solo sul testo selezionato oppure da quel punto in poi della scrittura non su tutto però queste sono cose che ottima domanda il font agisce su tutto sì queste cose sono scritte nella documentazione per uno le può modificare è un po più arzigocolato ma si può fare cioè si può rendere il cambio di colore per tutto il documento la stessa cosa avverrà anche con l'allineamento del testo giustifica non giustifica anche in world io la possibilità di giustificare solo un pezzo di testo è un altro testo magari lo centro quindi paragrafi diversi hanno proprietà diverse però capisce che questa è una grossa complicazione perché se voglio chiudere e riaprire e ristabilire tutte queste cose devo ricordarmi tante 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 cose ok bene non ci sono altre particolari cose soltanto una cosa che mi premeva farvi vedere che questo importante si fa voglio vedere che l'andata a capo automatico andata a capo automatico è quella cosa che adesso mi serve un testo mi serve un testo lungo mi sono scaricato il famoso lorem ipsum dollar sitamet avete mai visto questo testo questo è testo di riempimento dei siti web quando si stanno ancora sviluppando è un testo latino che ha delle caratteristiche di occupazione spaziale visibilità tali da essere usato in tutto il mondo cioè anche i progettisti della norvegia usano questo testo per riempire siti web in fasi progettuali cioè come riempimento come placeholder prima che ci siano i veri contenuti quindi che significa word wrap che se è disattivo un paragrafo una linea e quindi un paragrafo lungo si sviluppa in orizzontale quindi c'è un cursore orizzontale che mi consente di leggere tutto altrimenti word wrap attivo andata a capo taglio del testo significa che laddove tocco il bordo si va a capo in maniera intelligente senza troncare le parole quindi tra una parola e l'altra quindi questa cosa si vede bene se io adesso faccio così vedete ogni volta che trova una parola sul bordo va a capo per non sforare la larghezza dell'applicazione e quindi la novità rispetto all'altra volta che c'è questo pulsante che rimane selezionato e poi rimane deselezionato questi pulsanti si chiamano hanno un comportamento che si si chiamano google tipo google però con la t google che significa google che è un pulsante che ha due stati attivo non attivo un po come le caselle e come si fa a dire questa cosa ancora queste sono delle azioni quindi il word wrap dove stai io l'ho chiamato google però lui è ancora una coaction ma nel codice quando si va a creare questa coaction dove stai dove stai eccolo qua si dice set checkable true set checkable true significa che da quel momento in poi quella coaction diventerà una coaction toglabile cioè potrà restare attiva se viene premuta e poi si disattiva se viene premuta un'altra volta e di default io la metto attiva perché di default la proprietà di word wrap è attiva non c'è soltanto il togl of word wrap c'è anche c'è anche dove sta ci sono anche questi due togl questi due togl sono semplicemente un mostra nascondi la toolbar stanno in un menu view infatti e mostra nascondi la status bar che sta sotto e infatti io facendo così si disattiva e si attivano ora la cosa carina è che il relazioni ceccabili se hanno un'icona l'icona si preme e si depreme tra virgolette se non hanno un'icona appare la spunta della v tipo casella e tutto questo avviene maniera automatica come ho fatto a fare queste queste cose tipo nascondi a toolbar non nascondere la toolbar beh intanto ho connesso tutto quello che c'è nella grafica con degli slot perché oggi sarebbe stato pesante ogni volta ricopiare i metodi quindi abbiamo già i slot pronti vuoti però quelli che dobbiamo fare oggi quelli pieni sono quelli più facili per esempio per nascondere la toolbar io mi metto in ascolto del segnale che non è più triggered non è un semplice click ma è un tool c'è un cambio di stato di un pulsante a che ha due stati quindi il segnale tool ed emesso dal dalla dalla coaction toolbar togel viene connesso con lo slot tool led dell'oggetto corrente cosa farà mai questo slot toolbar set visible check una riga di codice cioè c'è che è lo stato booleano premuto non premuto allora io dico che se premuto è true quindi set visible true quindi si vede se non è premuto è false quindi set visible forse lo nasconde questo si usa spesso nella grafica e di nascondere penso che tutti tutti le applicazioni complesse hanno la proprietà di far vedere delle cose e nasconderle vedete anche qui in questo caso io sono nel sono nel nell'ambiente sviluppo ho fatto vedere poi ho nascosto una un riquadro un pannello con delle cose set visible è una delle funzioni che sono comuni a tutti widget tutti i widget anno isted visibili quindi io posso nascondere e rirendere visibili tutti widget sono le proprietà comuni a tutti widget ok vedete sono cose che sono anche molto il codice quando è scritto bene non ha bisogno di commenti e non mi riferisco al mio codice mi riferisco alla al framework tutti la scelta dei nomi dovrebbe essere pensata in maniera tale che lo sviluppatore da solo capisce il significato di una funzione set visible che potrà mai significare che accetta un booleano che una cosa o si vede o non si vede vedete com'è semplice uno dice vabbè in questo caso è semplice ma in generale se uno sceglie bene i nomi il codice si dice che si auto da si auto spiega si auto documenta e è una buona pratica nel nei progetti di progetti software di certi di un certo livello di una certa dimensione sembra controintuitivo ma i commenti non si mettono nel codice se non per spiegare cose di rilevanza scientifica il funzionamento molto particolare di qualche cosa ma in generale un codice non dovrebbe avere tanti commenti più commenti c'ha e più possibilmente chi l'ha scritto magari o è per fini didattici e quindi magari una cosa che vedo io c'hai commenti perché ve lo spiego a voi o magari significa che si vede un po l'esperienza della persona è un po un programmatore alle prime armi che ha bisogno di mettere tutti questi commenti per ricordarsi il significato di quello che appena scritto invece il significato di quello che noi scriviamo deve essere visibile dai nomi che noi scegliamo quindi anche i nomi che io ho scelto qui negli slot sono tutti i nomi che hanno un significato new action trigger è stato triggerata l'azione new forse avrei potuto scrivere meglio new document però siccome questo è un notepad che gestisce i documenti è ridondante dire new document open document save document è ovvio che l'unica cosa che posso aprire è un documento non posso certo aprire un'immagine dentro un notepad ok nient'altro non ho fatto nient'altro quindi quello che dobbiamo fare oggi non credo riusciremo a fare tutto sono le interazioni complesse cioè nuovo documento apertura di un documento esistente salvataggio del documento corrente cambio documento cioè passare da una tab all'altra e voi dice che non ci pensa tutti nel passare da una tab all'altra sì però noi la sopra abbiamo questi pulsanti che si aggiornano a seconda della cosa che io sto selezionando vedete qua c'è ognuno che è un documento non salvato si è attivato il pulsante di salvataggio che significa che questo documento ancora non salvato sul disco è infatti l'icona rossa questo invece salvato l'icona blu e il pulsante di salvataggio non è attivo queste sono delle minuzie però tutte queste piccole cose rendono poi l'applicazione l'applicazione ha un senso anche qui se io faccio così si attiva il landu ma quando io ho finito sono arrivato all'azione più vecchia landu si disattiva mentre nella nostra applicazione landu va avanti c'è landu il pulsante andu rimane sempre attivo il pulsante salva rimane sempre attivo anche quando non c'è niente da salvare queste sono tutte cose che fanno un'applicazione fatta bene da una invece amatoriale poi modifica di un documento l'aggiornamento interfaccia se io sto modificando un documento mi piacerebbe che in basso apparisse che ne so numero di riga numero di colonna che se io sto modificando un documento appunto da che quest'icona è blu modifico diventa rossa significa che bisogna salvare il documento chiusura del documento corrente ed eventuale richiesta di salvataggio cioè appunto se io chiudo un documento non lo salvo mi dice ci stanno delle modifiche non salvate devo salvare sino cancella cancella significa non mi interessa rispondere né sì né no chiusura applicazione richiesta salvataggio documenti non salvati cioè se io sto chiudendo l'applicazione e c'è una serie di documenti non salvati mi dovrebbe chiedere per c'è uno di questi se li voglio salvare oppure mi dovrebbe chiedere li vuoi salvare tutti quanti che poi non è possibile salvare tutti quanti perché ogni file vuole il suo percorso ripristino sessione precedente questo sarà la cosa più difficile la persistenza non la facciamo certo oggi ci servono degli strumenti che ancora non abbiamo in generale ragazzi questa è la cosa più difficile da fare cioè questa cosa qui è difficilissima il menu dei file recenti la memoria che ha delle delle opzioni quindi se il testo è giustificato di quel documento devo ricordarmi che quel documento c'è il testo giustificato di quel paragrafo non è banale ripristino sessione precedente quindi è una cosa più grande forse di noi addirittura quello che possiamo fare in questo corso facciamo qualche cosa giusto per darvi gli strumenti ma non possiamo ripristinare tutto quello che c'è da ripristinare e poi questa è una cosa che vi lascio per esercizio vi ho messo l'icone la giustifica del testo cioè è possibile vi ho solo messo l'icone è possibile qt offre qtext edit offre un metodo che si chiama set align che consente di settare l'allineamento di un paragrafo a linea sinistra a linea al centro a linea a destra oppure giustifica un po come se fosse come se fosse word ok bene fatta questa doverosa premessa questo che vediamo in questo momento è finto perché è finto perché questo new 1 è addirittura nel costruttore c'è l'abbiamo messo l'altra volta abbiamo messo da qualche parte alla fine add tab new document new 1 ma non è così cioè l'applicazione quando parte non dovrebbe partire subito con un documento vuoto perché magari voglio aprire una cosa esistente quel documento vuoto lo chiudo perché non mi serve cioè non è detto è una scelta comunque però in generale no quindi noi l'abbiamo messa perché ci serviva avere un feedback visivo che quella è una qtext edit e lavora bene ma adesso la dobbiamo togliere purtroppo e dobbiamo togliere anche questo show message nella status bar hello quelle erano soltanto delle cose temporanee quindi la nostra applicazione adesso quando parte che ho fatto già in esecuzione se già in esecuzione lui si ribella la nostra applicazione adesso quando parte non c'è niente e non reagisce soprattutto ok quindi da che vogliamo partire abbiamo un bel po' di cose da fare che dite andiamo in ordine nuovo documento vuoto con numerazione con numerazione crescente cioè vedete io faccio new 1 faccio così faccio new 2 faccio così faccio new 3 però ora succede una cosa particolare guardate se io scrivo qualcosa e salvo che ne so lo salvo sul desktop adesso faccio new qua non appare new 4 ma dovrebbe apparire new 2 quindi come se lui avesse questi numeri che assegna ai documenti vuoti ma quando il documento vuoto viene salvato sul file la tab prende il nome di quel file e il nome vecchio new 2 viene come se venisse liberato e messo di nuovo a disposizione di un nuovo documento è così che si fa però questa cosa così banale vedete ora quanto ci farà cervellare allora intanto apertura di un nuovo documento dove dobbiamo andare nel codice dove avviene questa apertura in due posti la prima sicuramente se io premo il pulsante no scusate nuovo abbiamo detto non apertura se io premo il pulsante nuovo qua dentro deve per forza avvenire qualcosa e che cosa avverrà secondo voi possiamo già adesso pensarci io premo new che devo fare devo creare un nuovo documento quindi come crea un nuovo documento documento e adesso qui si pone il problema del costruttore documento e non abbiamo definito noi nulla documento è una classe praticamente vuota non è davvero vuota perché è realità da q text edit quindi c'è tanta roba dentro però dire così significa per adesso questo è un documento e io sto creando e poi lo devo inserire dentro una tab quindi tabs ci sarà un metodo che si chiama ad qualcosa ad tab cosa vuole del tab vuole una widget quindi per esempio vuole quello che io appena creato document no doc vuole anche un'icona e quest'icona se il documento è nuovo possiamo già dire che l'icona è quella è quella quella che usa notebook più più se il documento è nuovo l'icona di questo tipo che significa che non c'è nulla da salvare perché in effetti non c'è nulla da salvare possiamo già dire una cosa del genere quindi possiamo dire che l'icona è icons com'è saved punto ico dovrebbe essere l'icona saved saved e unsaved blu e rosso poi vuole un nome della tab e beh uno qua dice la chiamo ognuno e sì però se io faccio così ogni volta che faccio nuovo lui crea ognuno 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 quindi questo approccio va bene adesso per vedere che davvero c'è questa interazione ma è comunque un approccio temporaneo quindi per adesso va pure bene vediamo se io premendo sul pulsante appare questa tab ed appare però ci sono diverse cose che non vanno la prima è che ci hanno tutti ognuno la seconda che se io creo un nuovo documento io vorrei settare anche il focus su quel documento io non voglio che se ne crea uno nuovo viene messo a destra e sto ancora lavorando sul corrente se io sto creando un nuovo documento significa che io voglio lavorare sul nuovo documento questa seconda cosa è facilissima la prima invece in uno ognuno due nu tre adesso ci dobbiamo ragionare intanto partiamo dal facile tabs come facciamo a dire voglio che sia selezionato quello che ho appena creato per esempio set non lo so se c'è ci sto provando esiste un set selected non esiste set select esiste un set corrente set current c'è set current widget e posso dargli quale widget quindi ho detto setta come widget corrente quella che tu hai appena creato quindi adesso dovrebbe succedere che se io faccio new lui vedete rimane selezionato su quello nuovo che io ho creato quindi se sto qui ritorna lì è stato facilissimo abbiamo cercato un metodo setta cosa corrente abbiamo provato con set selected non abbiamo trovato abbiamo provato con set current l'abbiamo trovato se non avessimo trovato manco questo saremmo dovuti andare nella documentazione a cercare come si fa a selezionare la cosa corrente sempre così funziona bisogna cercare nella documentazione quando o si prova per tentativi o si cerca nella documentazione io sicuramente non so a memoria tutte queste cose nemmeno voi nessuno le sa tutte queste cose a memoria quindi uno spera che ci siano le cerca le trova e le usa ok però adesso vi faccio una domanda e uso la parola di nuovo responsabilità di chi è la responsabilità di sapere il nome del documento perché parliamoci chiaro questo ognuno è il nome del documento quando il documento è salvato il nome è quello del file quando non è salvato il nome è 1 2 3 eccetera chi è responsabile di sapere il nome del documento il documento vedete quando uno formula bene la domanda la risposta sta nella domanda quindi è il documento che dovrebbe sapere qual è il suo numero il suo id il suo nome e quindi cosa possiamo mettere nella sezione private una variabile che tiene conto del numero l'id identificativo numerico univoco di questo documento non è detto che debba essere un intero abbiamo detto che deve essere un nome però dobbiamo ragionare su una cosa ragazzi che quando io salvo questo quando io questo lo salvo lui questo 2 che ha dentro lo deve liberare perché questo 2 deve essere poi disponibile per altri documenti che vado io a creare quindi per liberare qualcosa bisogna memorizzarlo altrimenti come fa questo a sapere che lui ha dentro di sé questi di numerico quindi probabilmente lui deve avere un id numerico associato e poi sicuramente ci potrà essere un getter di tipo int id return id vedete come viene comodo usare la convenzione underscore per l'attributo e il getter con direttamente le parentesi e il nome dell'attributo sì però chi è che lo crea chi è che lo assegna questo questo getter e dovrebbe essere il documento quando lui viene costruito lui dovrebbe assegnarsi questo numero dovrebbe sapere come assegnassero quindi sicuramente noi dobbiamo definire questo costruttore che prima non abbiamo definito significa che comunque di default lui lo definisce il compilatore per noi ma lo definisce vuoto adesso qua dentro noi ci dobbiamo mettere qualcosa di non banale quindi dobbiamo andare dentro ecco dentro dobbiamo andare dentro il cpp che per adesso è vuoto dobbiamo andare a definire il nostro costruttore in maniera tale che si assegni il suo id ora qua ragazzi entra la programmazione oggetti come protagonista come facciamo ad assegnare agli oggetti di una classe un identificatore univoco nel momento in cui gli oggetti vengono sfornati vengono costruiti di nuovo la responsabilità di chi è la responsabilità di detenere questi numeri queste etichette da dare agli oggetti immaginate che gli oggetti siano i telefoni e le etichette siano i numeri siano i codici che vengono messi da qualche parte nel telefono c'è scritto il codice di fabbrica ok l'ho già detto praticamente il codice di fabbrica quindi chi è che assegna il codice? la fabbrica e quindi chi è la fabbrica degli oggetti? il costruttore è il metodo con cui vengono costruiti ma l'attore che è la responsabilità di costruire gli oggetti è della classe la classe è la fabbrica di oggetti quindi chi detiene queste etichette da dare agli oggetti? la classe vi ricordate gli attributi di classe? ci sono gli attributi dell'oggetto e poi ci sono gli attributi di classe cioè qualcosa che inizia per static static nel contesto della programmazione degli oggetti significa che questo che sto per definire è un attributo della classe cioè è una cosa che la classe ha è della classe, non è del singolo oggetto ok? e abbiamo detto che dobbiamo assegnare etichette ai nostri oggetti quindi non posso metterci un intero deve essere un contenitore di interi da dare ai nostri oggetti un contenitore di interi ci sono le liste ci sono i vector ci sono i set ci sono le map questi sono i contenitori che ci offre la STL che sarà secondo voi? allora se fosse un vector supponiamo che questo vector lo popoliamo con numeri da 1 a 100 quindi massimo 100 documenti apribili sul nostro notepad del resto non penso che uno apra più di 100 documenti o 200, 300 mettiamo in questo vector i numeri da 1 a 100 arriva il primo documento viene creato chiede alla classe scusa mi dai il primo numero libero? il primo numero libero è 1 arriva il secondo il secondo è 2 il terzo è 3 eccetera a un certo punto però un oggetto si distrugge oppure viene salvato su file un documento si distrugge o viene salvato su file questo documento aveva etichetta 1 e la deve liberare dove la mette? nel vettore? la dovrebbe mettere in testa perché dovrebbe essere la prima delle etichette da dare agli altri e però il vector non ce l'ha il push front non ce l'ha il vector è un array può crescere e decrescere solo in coda non in testa quindi il vector ci dà questo problema la lista ci dà questo problema? no la lista ci consente di mettere le cose ed estrarre le cose dalla testa e dalla coda quindi la lista è un candidato il vector sicuramente no la mappa crea una corrispondenza tra chiavi e valori io non vedo nessuna corrispondenza in questo caso noi ci serve un contenitore di interi mappa non contiene interi contiene coppie di valori quindi abbiamo lista e set set che cosa fa? avete mai usato set? è forse la volta di usarlo perché set è un insieme di elementi univoci quindi mentre nella lista se io sono sbadato ci posso mettere lo stesso numero più di una volta e tra l'altro la lista non è ordinata nessuno mi dice che la lista è ordinata perché prima io ho fatto un esempio abbastanza facile ho detto se io libero uno uno va in testa ma se io libero cinque perché devo metterlo in testa? magari in testa già c'è uno io metto cinque prima di uno non va bene cioè ho bisogno di un contenitore che mantiene queste etichette ordinate così che il primo che viene la prima etichetta libera da dare a un documento è il numero più piccolo possibile libero da dare la lista non mi mantiene questo ordinamento quello che mi mantiene l'ordinamento è il set il set è un contenitore ordinato e vedremo come è implementato il set lo vedremo con gli alberi di ricerca quando faremo queste cose quindi il set è un contenitore di elementi ordinati a questo punto contiene int perché sono int quelli che io voglio dare e lo chiamo per esempio lo chiamo idis che sta per plurale id numerici che si possono assegnare oppure lo potete chiamare forse in maniera un po' più specifica available idis magari questo vi dice forse qualcosa di più quali sono gli identificatori in questo momento disponibili ovviamente bisogna includere il set quindi questo è di classe attenzione e questo invece è un attributo dell'oggetto gli attributi di classe vanno definiti nel cpp quindi qua vanno inizializzati quindi qua dobbiamo dire che il nostro available idis è un attributo della classe document e mi pare che dobbiamo definirlo dobbiamo almeno inizializzarlo con così significa che praticamente questo è il costruttore vuoto è un insieme vuoto inizialmente inizialmente a questo punto però essendo un insieme vuoto chi è che deve popolarlo per la prima volta? quando parte il primo oggetto il primo oggetto che viene costruito è quello che dovrebbe chiedersi ma se non ci sono gli id nella classe io ce li devo mettere quindi una cosa del genere if available is empty mi fa capire che in questo momento se io ho trovato questi vuoti può significare due cose ragazzi o che abbiamo finito non ce ne sono più disponibili quindi abbiamo raggiunto il numero massimo di documenti oppure questa è la prima volta che io sto effettivamente costruendo un oggetto e quindi ce li devo mettere quindi attenzione noi potenzialmente qua stiamo creando un bug cioè se noi adesso ipotizziamo che questa sia la prima volta che viene creato un documento perché abbiamo trovato questo vuoto funziona fin tanto che non raggiungiamo il numero massimo di elementi quindi dovremmo comunque da qualche parte mantenere una specie di numero massimo di elementi se questo numero massimo di elementi viene raggiunto dobbiamo tirare fuori un errore volete farlo? volete fare le cose in maniera professionale? non ci piace lasciare dei bug dietro per esempio quindi possiamo fare una cosa di questo tipo la prima cosa che quindi dobbiamo fare se ci stanno più di 256 mi state scrivendo qualcosa il professore potrebbe ripetere perché usiamo il set usiamo il set perché ci serve assegnare ai nostri documenti degli id numerici però non li assegniamo a caso li assegniamo in maniera ordinata quindi se noi qui abbiamo un documento che ha assegnato il numero 2 e noi questo lo liberiamo il prossimo che dobbiamo assegnare non è 5 ma il 2 che si è liberato quindi ci serve un contenitore che contenga degli interi in maniera ordinata e questo contenitore è il set la lista non contiene elementi ordinati ce li metto io ordinati all'inizio ma non rimangono ordinati poi perché io poi li vado a mettere in testa ovviamente metto 2 in testa magari c'è già uno e non è ordinato quindi usiamo il set per avere un contenitore ordinato di identificatori questa è la risposta spero che abbia risposto ora per non creare bug noi diciamo se ci sono più di 256 è un numero massimo che noi decidiamo ragazzi da qualche parte questo magari è una variabile che sta addirittura dentro il CMake una variabile proprio di progetto però in questo caso la mettiamo nel codice e qua ragazzi dobbiamo dire qualcosa solleva un'eccezione oppure errore adesso non lo faccio però è questo il punto in cui dobbiamo dire guarda quando superi un certo numero di no scusate per risolvere questo bug ci serve sapere quanti sono state assegnate fino ad ora quindi dovremmo mantenere un'altra variabile con il numero di assegnati scusate ho fatto confusione però ci stiamo complicando davvero troppo la vita permettetemi dobbiamo concentrarci anche su altre cose quindi sappiamo che questo comunque potrebbe generare un bug però non non ce ne interessiamo in questo momento quindi qua ci mettiamo però un commento se è true significa che è il primo oggetto creato durante l'esecuzione quindi andiamo a popolare che ne so da 1 a 256 quanti ce ne volete mettere al massimo andiamo a creare a popolare il nostro contenitore inseriamo i quindi i parte da 1 e arriva fino a 255 quindi se è true significa che è il primo oggetto creato durante l'esecuzione oppure che non ci sono più id disponibili e qua attenzione che stiamo creando un bug perché se non ci sono più id disponibili noi qua dentro ci entriamo reinseriamo i numeri da 1 a 256 e quindi avremo che nella nostra applicazione abbiamo ognuno 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 255 e poi abbiamo ognuno un'altra volta con un riciclo di id non è un bug gravissimo soprattutto vai a vedere chi apre 256 documenti in una interfaccia grafica nessuno mai li aprirà perché non ci stanno dentro l'interfaccia grafica quindi questo è un bug molto teorico non stiamo facendo il razzo Arian 5 che è caduto quindi possiamo permetterci di ignorare questo bug ok quindi a questo punto l'id attuale dell'oggetto è il primo abbiamo detto che deve essere quello più piccolo siccome questo è un contenitore ordinato allora deve essere il primo il primo però begin è un iteratore quindi per dire il valore del primo dobbiamo usare l'operatore di dereferenza che significa questo è il puntatore primo star e mi fa andare alla cella che contiene il valore di questo primo elemento quindi questa è l'assegnazione dell'id adesso il documento ha un id se è così se tutto sta funzionando allora io dentro main window dovrei a questo punto sapere o meglio chiedere al documento qual è il tuo id quindi non è più new1 ma è new qstring new più qstring number che dovrebbe fare la conversione da numero a stringa e il numero lo prendo dal documento doc id quindi sto dicendo new più concatenato con la stringa convertita dal numero pari all'id del documento capito ho chiesto al documento prima l'ho costruito e durante la costruzione mi fido che lui si auto assegna questo id gli chiedo l'id lo metto accanto a new e questo fa il nome del il nome della tab se così se così è io dovrei vedere adesso new1 new2 new3 e così via se ha funzionato se non ha funzionato non lo so new1 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 c'è un bug ok dove sta il bug trovatelo voi questa che vedete qua è una lettura o un'estrazione estrarre significa prendi e cancella estrarre se avete un contenitore con le palline estrarre significa prendere quella pallina e tirarla fuori questa non è un'estrazione è solo una lettura per fare l'estrazione bisogna bisogna cancellare quindi devo fare erase primo quindi questo va a prelevare il primo id questo va a cancellarlo dal contenitore di elementi disponibili ecco perché ce l'ha sempre new1 new1 perché nessuno andava mai a cancellare questo documento adesso adesso sì il problema è che quando queste cose si chiudono e tra l'altro come si chiudono ci manca il pussante per chiudere ma questo non è un problema vi risparmio di andare nella documentazione quando creiamo le tab basta dire tab set una cosa tipo closeable set tab closeable to questo fa sì che le tab siano chiudibili ovvero appaia il 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 pussante di chiusura ora sarebbe carino se io chiudo questo tra l'altro non si chiude prima cosa non si chiude seconda cosa vorrei che una volta chiuso si liberasse il 2 e facendo new ripartisse da 2 quindi abbiamo due cose da fare perché non si chiude beh perché il fatto di aver detto che si possono chiudere però nessuno ha catturato l'evento di chiusura il segnale è una questione di segnale slot cioè quando io premo il pussante di chiusura della tab viene emesso il segnale di chiusura questo segnale non lo cattura nessuno il nessuno si chiude nessuno si lamenta vediamo questi segnali se ci stanno q tab widget così si chiama tab se è una qtab widget che segnale emette qtab widget andiamo nella sezione signals current changed è cambiato la tab corrente questo ci servirà in futuro tab bar clicked significa che qualcuno ha cliccato su una certa indice è cambiata la tab corrente qualcuno ha cliccato su una certa tab qualcuno ha cliccato due volte su una certa tab qualcuno ha richiesto la chiusura di una certa tab eccolo qua il segnale che ci serve per intercettare la chiusura di una tab quindi questo ce lo copiamo dobbiamo se connettere dobbiamo creare uno slot sicuramente perché il segnale va connesso a slot come lo chiamiamo questo slot beh il segnale si chiama tab close requested tab close clicked deve essere un nome comunque significativo non ha argomenti perché è soltanto un evento non trasporta argomenti possiamo finalmente a questo punto connetterlo quindi connettiamo gli eventi che provengono dalle tab di tipo di tipo questo qua trasportano ah no trasportano in intera avete ragione ho visto delle facce perplesse avete ragione tab close clicked trasporta l'indice della tab che è stata chiusa connetto questo segnale allo slot di questo oggetto che si chiama tab close clicked che trasporta interi a questo punto devo da qualche parte alla fine definire lo slot tab close clicked int index che posso fare se io ho una richiesta di chiusura beh se io vado a pigliare questo widget c'è widget ok c'è il getter dell'elemento che si trova nella tab all'indice tal detali quindi questo mi dà questo mi dà questa getter mi dà accesso al puntatore dell'elemento che sta nella tab per noi chiudere che significa chiudere un documento beh nell'applicazione finale significherà chiedersi se è da salvare se non è da salvare però ancora non siamo a quel punto quindi che significa significa cancellarlo e quindi che devo fare domanda per voi anche per voi se devo chiudere qualcosa un oggetto lo devo cancellare che devo fare su quell'oggetto lo devo distruggere e quindi lo devo questo è un modo per distruggerlo delete invoca il distruttore dell'oggetto puntato da questo da questo puntatore ok quindi quando vi ho detto una volta non useremo mai il delete però ho detto tranne alcune eccezioni e questa è l'eccezione perché la gestione delle tab almeno in questo in questo tab widget è manuale non è automatica addirittura io ho premuto il pulsante di chiusura e non si è chiusa quindi siamo noi che dobbiamo fare il delete stavolta questo invocherà il distruttore e quindi il distruttore forse è il caso di definirlo perché ci potrebbe far comodo ractors map distruttore con la tilde la tilde sta qua eccola qua tilde main window perché ci serve il distruttore se non lo definiamo viene comunque definito in automatico ma perché ci serve in particolare nel nostro no scusate il distruttore del documento non il distruttore di main window distruttore del documento ci serve perché ci serve il distruttore del documento guardate il costruttore e proiettate specularmente questo ragionamento sul distruttore e ditemi perché per restituirlo se il costruttore preleva il distruttore restituisce quindi il distruttore dirà eh classe questo è un attributo della classe ti restituisco il mio id mi si è andata la tastiera in soccunitense ok ti restituisco il mio id quindi quando si distrugge un oggetto eh quell'id viene restituito e quindi il prossimo che viene costruito ripartirà probabilmente da quell'id che ho appena che ho appena distrutto che ho appena restituito scusate ok vediamo elimino il 2 si è eliminato quindi il fatto di averlo eh distrutto in qualche modo Qt se ne ha accorto il tab widget ha anche proprio eliminato la tab vediamo il momento della verità se parte da 2 parte da 2 quindi poi riparte da 5 perché il 5 era il primo dei liberati quindi per esempio se io elimino 3 ed elimino 4 dovrebbe adesso fare new 4 new 5 e poi new 10 no dovrebbe fare new 3 new 4 new 3 new 4 dovrebbe fare scusate e poi new 10 new 3 new 4 e poi new 10 eh quindi nella nostra lista di cose da fare siamo riusciti con un po' di fatica a fare la prima do sta progettazione nuovo documento vuoto con numerazione crescente come dice buon mucciaccia fatto fatto cioè abbiamo veramente fatto oppure ci è sfuggito qualcosa aiutatemi a capire mi pare tutto a posto per adesso sembra tutto a posto perché abbiamo provato sembra funzionare ehm apertura documento esistente quindi dove dobbiamo andare e beh prima siamo andati in new action triggered dobbiamo andare in open action triggered sì beh sì però possiamo comunque aprire è vero però c'è un sacco di documenti da aprire sul computer quindi possiamo aprire dei documenti che già ho questo apre tutti i faldi testo quindi perché il formato è un formato di interscambio formato txt quindi non è un formato proprietario avrebbe ragione se fosse un formato proprietario nostro dovremmo prima salvare le cose che poi dobbiamo leggere però è un formato libero txt ok quindi andiamo nell'open open action triggered e qua ragazzi se mi dicono open io devo open cioè non è che posso devo per forza aprire una finestra di dialogo che spero possa essere una cosa del tipo get open file name quindi una finestra di dialogo che mi consente di aprire un file vuole sapere che il parent sono io la finestra vuole sapere caption penso sia il titolo il titolo della della finestra poi ci sta la directory da cui partire io non ci metto niente quindi parterà non so da c2 punti o dalla home dell'utente poi ci sta il filtro cioè quali file vuole vedere per estensione e poi altre opzioni che magari forse almeno se prendiamo la slide che faceva vedere questa cosa le slide in questo sono utili perché fanno le veci di un manuale senza che andate su 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 qt quindi i dialoghi dove stanno stanno qua i dialoghi del testo stanno qua quindi questo è il modo in cui dobbiamo mettere i filtri quindi tipo di file come nome parentesi tonde asterisco punto estensione quindi dis che ne so il nome della finestra title quindi select file che ne so directory metto il default che sta qui la stringa vuota e poi nel filtro ci metto effettivamente file di testo quindi in questa maniera io andrò ad aprire tutti i file che hanno estensione txt questa cosa restituisce una qstring e in particolare non so se è scritto sulla slide comunque è scritto nella documentazione se io accetto questo dialogo viene restituito il percorso del file che ho selezionato se invece rifiuto il dialogo o non seleziono niente o premo cancer o premo la croce del dialogo viene restituita una stringa vuota quindi qua per esempio possiamo mettere file path questo è quello che restituisce se 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 vi piace è meglio dire se non è vuoto se non è vuoto allora qua devo fare l'apertura per esempio stampo una cosa per vedere se questa cosa sta funzionando quindi stampo a schermo apertura se seleziono un file altrimenti no vediamo se questa cosa sta funzionando è sempre bene fare tutte le prove quindi apro un file seleziono tra l'altro come path di default lui si è messo nella cartella del progetto perché perché è la cartella dove c'è l'eseguibile quindi lui vede comunque quello che sta attorno a essere l'eseguibile vabbè selezioniamo questo file me lo fa vedere perché è un file di testo vedete che mi ha creato automaticamente questa finestra che è una finestra di sistema operativo seleziono faccio open e vedo se apertura si ha funzionato e se invece non faccio niente non dovrebbe stampare nulla quindi se io adesso seleziono anche un file e poi faccio cancel lui non ha ovviamente non ha fatto nulla quindi si sta funzionando e però come si fa l'apertura di un file mentre in new action triggered io creavo un nuovo documento con il costruttore di default un costruttore che non prende per ingresso nulla perché un documento è vuoto per definizione un documento che è esistente dovrebbe prendere ingresso qualcosa quindi che devo fare in document e vedete come tornano utili le cose di programmazione oggetti che un oggetto una classe può avere più più di un costruttore e ogni costruttore ha i suoi significati il costruttore di default significa documento vuoto il costruttore che prende l'ingresso il file path è un documento che si deve andare a leggere quel file quindi qui non farò new document e basta ma farò new document file path e però penso che anche qui devo fare una cosa di questo tipo devo andare poi a creare devo fare una cosa di questo tipo un'altra volta doc devo fare set current widget perché sto aprendo un documento quindi voglio vederlo subito non voglio andarci io dopo che l'icona sia quella di documento salvato mi piace perché un documento che io sto aprendo è già per definizione salvato non ha modifiche però questo non mi piace il fatto che lui abbia un new id no un documento che io ho aperto non deve avere un new più il numero deve avere come nome il nome del file e qua ci sono due modi di farlo o il nome del file me lo ricavo dalla stringa del percorso io main window oppure lo chiedo al documento che in qualche modo avrà fatto è una questione di responsabilità chi è che deve conoscere il nome del file il documento quindi mi verrebbe da dire doc name non object name file name non c'è perché lo dobbiamo scrivere quindi document dovrà avere un getter file name di tipo qstring ragazzi le qstring sono come le string dell'Stl potremmo usare pure le string std string solo che poi le string vanno convertite in qstring per evitare questo passaggio faccio così questo farà un return di file name che a questo punto deve essere un altro attributo dell'oggetto ok quindi questo è un getter per ordine i getter li mettiamo tutti vicini mentre i costruttori tutti vicini il distruttore e i getter così è più ordinato a questo punto il nostro main window sta assolvendo le sue responsabilità ha creato una finestra di dialogo se ha ricevuto un percorso crea con il costruttore di document quel documento chiede a quel documento come si chiama gli da un'icona e lo setta come documento corrente a livello di responsabilità ci siamo però dobbiamo implementare questo nuovo costruttore quindi adesso abbiamo il secondo costruttore che accetta parametro di tipo file pack dobbiamo leggere un file ragazzi come si leggono i file l'avete fatta programmazione oggetti if stream l'avete fatto ditemi di sì quindi if stream stream f percorso converti a stringa standard altrimenti la povera libreria spl non sa che fare la devi leggere in modalità di lettura no questa è già di lettura perché è così cos'è che non gli è piaciuto incomplete type incomplete type ah ok f stream bene if not f punto is open cioè se non l'hai trovato ragazzi qua sollevare eccezione errore noi non stiamo qui a sottilizzare sugli errori le eccezioni la gestione di errori è tutta un'altra cosa che andrebbe fatta qui gestione delle eccezioni errori ma non abbiamo il tempo di fare anche questo non possiamo fare l'applicazione da mettere su github domani però a meno è predisposto il corice sappiamo che dobbiamo fare questo e ricordatevi ragazzi di chiudere il file quando l'avete finito di leggere è una cosa che non serve a niente se voi non chiudete il file il sistema operativo ha un numero massimo di file aperti che in windows è 256 a meno fino a windows 7 e io che ho scritto un'applicazione che andavo a leggere tanti file insieme crashava perché non sapevo non mi ricordavo che ogni sistema operativo ha un numero massimo di file apribili quindi aperto il 250 6esimo 7esimo non lo apriva e non capivo perché non lo apriva quindi è importante fare anche la chiusura beh a questo punto devo leggere linea per linea dentro dentro una stringa che chiamo testo while stt get line prendo una linea e la metto in una stringa linea quindi finché ci sta qualcosa da leggere mettila in line e concatenalo con il testo attuale però con un carattere di andata a capo perché sto leggendo linea per linea se non mettessi un'andata a capo metterei tutto quanto dentro un'unica linea e fatto questo poi devo settarlo quindi ci sarà da qualche parte un set text no c'è il set text c'è il set text però ci sono due set text nel text edit il set text normale e il set plane text qual è la differenza? che il set plane text riceve il testo come testo il set text invece interpreta quel testo come html se c'è html quindi ragazzi qua noi ci stiamo giocando la possibilità di salvare i file in un formato che non è esattamente testuale ma anche formattato come se fosse un sito web questo ci renderebbe la vita più complicata ad altronde i documenti però avrebbero tutte quelle cose carine cioè sarebbe proprio un documento grafico con con fonti diversi per paragrafi diversi sezioni eccetera però per adesso questa cosa la la ignoriamo facciamo quindi il set text normale ovviamente lui non piace perché è una stringa se la converto in stringa addirittura del c gli piace di più e quindi va bene così funzionerà o non funzionerà abbiamo finito? abbiamo finito secondo voi? cos'è una cosa che non abbiamo fatto nel leggere un file? il nome del file il nome del file in qt c'è una funzione di utilità potremmo noi adesso scrivere scandisci la stringa fino a che non trovi la slash è però la slash in windows ci sta anche il backslash e quindi devo fare tutte e due ragazzi la rottura di scatole quindi facciamo una cosa file info c'è una classe file info che ci dà qfile info get file name ci dovrebbe essere una cosa di questo tipo una funzione di utilità che ci dà il nome di un file a partire da un path per esempio qfile info info c'è il nome del path cioè questo e chiediamo il nome del file info punto absolute di coincidà il percorso della directory base name il percorso della directory di base file name c'è un file name? file name eccolo qua quindi il mio file name del mio oggetto è quello che io chiedo a getter di info ovviamente questo c'è l'underscore file info non lo trova perché bisogna includerlo file info ho incluso ok adesso gli piace bene se tutto funziona adesso noi dovremmo vedere non solo che un file si apre e si vede ma che anche la tab ha il nome di quel file facciamo un po' di new apriamo un file apriamo questo file si vede è il nome di quel file effettivamente è questo cmc cache facciamo altri new tra l'altro vedete che lui è partito da 4 perché giustamente nel momento in cui noi abbiamo creato un file da abbiamo creato un documento da file lui non ha non si è preso un id però se non si è preso un id significa che quando lo distrugge che cavolo sta andando a restituire li trovate no? se lui ed è giusto che il nostro costruttore non abbia assegnato nessun id quando lo va a distruggere insert id ma id in quel momento non è determinato quindi non ci piace molto questa cosa cosa possiamo fare? possiamo fare questo guardate in questo caso se siccome i id partono da 1 noi ai file ai documenti che sono associati ad un file in apertura gli assegniamo id 0 sono è come se fosse un id non valido e in questo caso quando lui si distrugge se l'id è valido lo restituisce se non è valido quindi questo fallisce if 0 fallisce non lo restituisce e così ci siamo anche evitati cose strane che potrebbero succedere nella nostra applicazione dobbiamo fare altri test? apriamo due sì vabbè non l'ho non l'ho chiusa non penso sia necessario fare altri tipi di test proviamo ad aprirlo come primo file ed aprire un altro file ora va a capire dove li vado a trovare forse sul desktop ce n'era qualcuno l'avevo messo prima asda ok quindi tutto sembra procedere bene faccio new parte da 1 e quindi lo chiudo? lo riapro? non succede niente? vabbè non penso che chiudo e riapri e riaprire non dovrebbe generare nessun bug però adesso sembra funzionare tutto quanto quindi sì? ma in questo caso se noi provassimo per aprire due volte lo stesso file bravo sì è un problema è un bug bravo infatti apertura apertura due volte lo stesso file e questo non ci piace è bella questa domanda non me l'avete mai fatta però sono contento che quest'anno me l'avete fatta e io vi faccio sempre la solida domanda di chi è la responsabilità di evitare che un file sia aperto più di una volta stavolta ci dovete pensare non è banale la risposta secondo me la pensate diversamente non tutti uguali chi è l'unico attore che conosce tutti i file aperti? eh? sì potremmo anche fare una cosa del genere sì ha ragione sono diverse le possibilità così come abbiamo creato un contenitore di ID da dare ai documenti potremmo creare un contenitore di file aperti che la classe conosce se io in apertura provo ad aprire un file che già ho aperto perché lo trovo in questo contenitore mi rifiuto di aprirlo però il problema è che io ormai una volta che sto qua dentro è troppo tardi per rifiutarmi di aprirlo cioè questo è il costruttore di un documento che già si sta costruendo questo documento è troppo tardi devo rifiutarmi proprio in partenza devo rifiutarmi di aprire questo documento e e quindi l'altro attore che potrebbe fare questa cosa è la finestra principale perché la finestra principale quando apre un file ottiene il percorso di quel file e noi qua potremmo chiedere una cosa del tipo non solo se il file path non è empty ma chiedi a tutti i documenti attualmente aperti i loro file path se uno di loro ha lo stesso file path di quello che sto aprendo mi rifiuto facciamolo perché mi piace questa cosa però per farla penso di d'accordo con me che il documento non deve solo memorizzare il file name ma deve memorizzare anche il file path che tra l'altro è una cosa che abbiamo sbagliato bisogna memorizzare il file path perché? perché quando andrò a fare salva se io non ho memorizzato il file path dove lo salvo sto documento? quindi un errorino l'abbiamo fatto quando ho detto c'è altro da fare quindi il file path va memorizzato dove va memorizzato? sicuramente va memorizzato nel costruttore che ti dà il file path e quindi file path uguale file path a questo punto serve un getter quindi file path file turn file path andiamo nel nostro main window e qua dentro ci chiediamo dobbiamo fare un ciclo quindi for int uguale 0 i minore di tabs punto count count è la size di questo vettore di tab si è arrabbiato perché questo è un puntatore più più dobbiamo convertire il widget corrente a document se convertito il tab all'indice tal dei tali quindi questo è il widget contenuto nel tab all'indice convertito a documento adesso posso chiedergli qual è il suo file path se questo è uguale a a questo e che devo fare non fare non fare proprio esci subito immediatamente e non andare a creare un nuovo documento perché perché c'è già non lo so se funziona però come ragionamento ci può stare quindi scriviamo questa cosa evita di aprire lo stesso documento due volte è giusto anzi sarebbe ancora più figo se si selezionasse il tab di quel documento che voglio riaprire proprio ci sono ci sono ci sono gli strumenti che lo fanno però ho fatto un errore che ho fatto è un errore oppure un warning ah no ho fatto l'errore perché vabbè è in esecuzione quindi apro questo poi lo riapro qui dice però attenzione ma non è che non apre più niente apriamo uno diverso e lo apre apriamo apriamo sempre quello questo qua e non lo apre quindi effettivamente grazie abbiamo risolto questo bug eh vogliamo farlo vogliamo fare proprio una cosa fatta bene anziché fare return dovremmo qui memorizzare l'indice del documento ok se trova un duplicato se trova il documento già aperto lo seleziona allora dobbiamo fare int ehm int ehm doc index e dobbiamo inizializzarlo però qualcosa di invalido perché se l'abbiamo trovato allora questo avrà indice i l'abbiamo trovato tra l'altro non deve manco andare avanti quindi in questo caso è il momento di usare una cosa che a fondamenti di altre università vi dicono che vi bocciano se lo usate ma questo è il momento cioè se noi l'abbiamo trovato è inutile che va avanti break esci da questo ciclo a questo punto se il documento l'indice del documento duplicato è è stato trovato quindi se è diverso da meno uno eh o magari se è maggiore o uguale di zero è valido per noi valido è maggiore o uguale di zero ehm allora devi selezionarlo quindi tabs set current widget current index i altrimenti fai tutto questo se non hai trovato documenti duplicati allora via libera all'apertura vera e propria non è i ma è doc index questo è l'apertura fatta veramente come signore comanda quindi per vedere che funziona beh dobbiamo aprire un bel po' di file dov'ho arrivato a prendere sti file non lo so installation log deve essere un file enorme ci ho messo un po' per leggerlo va bene che ne so qua ci starà qualche file qml può essere ma non c'è niente sul desktop c'è sicuramente quindi cosa deve succedere adesso se io provo ad aprire il file che sta sul desktop non solo non deve aprirne uno nuovo ma deve selezionare quello che c'è vediamo io in questo momento sono selezionato il primo faccio così funziona quindi questo è il massimo che possiamo fare più di questo non possiamo l'apertura del file fatta come signore comanda perfetta se il file già esiste aperto lo vado a selezionare nella tab relativa bellissimo ok bene quindi direi che questo l'abbiamo fatto da 30 e lode apertura documento esistente però ci sono ancora cose da fare salvataggio del documento corrente il salvataggio è un po' complicato perché c'è il salvataggio ma c'è anche il sevas cioè c'è il salvataggio del documento che ha un percorso già su cui salvare e poi c'è il salvataggio del documento che non ha un percorso su cui salvare e poi c'è il salvas in cui c'è il documento che ha un percorso su cui salvare ma tu lo vuoi salvare in un altro percorso quindi è un po' complicata come interazione vediamo intanto dove dobbiamo andare facciamo salvataggio standard quindi non sevas save dove sta save action triggered che devo fare? parto subito sparato con la finestra di salvataggio oppure un attimino ragioniamo su quello che stiamo facendo salvare significa prendere il pulsante di salvataggio e dobbiamo salvare il documento corrente quindi sicuramente ci deve essere un documento corrente anzi possiamo subito scrivere guarda se non c'è nessun documento corrente è inutile che tu provi a salvare perché non c'è niente da salvare prima cosa e questo mi sa che no nell'open no perché l'open è l'apertura ma tutte le azioni che agiscono su un documento devono prima chiedersi se c'è questo documento corrente ok adesso c'è però questo documento corrente è se già è associato ad un file io devo salvarlo su quel file e è sempre una questione di responsabilità a chi faccio decidere cioè se il file esiste già bisogna andare semplicemente a sovrascriverlo ma se non esiste bisogna aprire una finestra di dialogo in cui si chiede dove andare a salvare questa cosa a chi vogliamo farla fare alla finestra principale o al documento o meglio possiamo dividere questa responsabilità in due parti la parte grafica forse è meglio che la facesse main window cioè se c'è da aprire una finestra di dialogo la finestra di dialogo va centrata sulla finestra principale quindi la finestra di dialogo la dobbiamo aprire noi main window il documento però una cosa la deve fare il sabotaggio cioè andare ad aprire il file con off stream scrivere tutte le linee quello dovrebbe farlo lui noi non siamo responsabili dell'apertura di un file in scrittura quindi questa cosa si fa dividendo stavolta la responsabilità il documento deve avere un metodo di tipo save e voi dite dove sta invece il read e il read sta qua nel costruttore quindi l'abbiamo già fatto questo save farà quello che farà lo implementiamo dopo è speculare rispetto al read possiamo anche farlo già ok possiamo dire std off stream f file path lui ce l'ha ce l'ha il file path dove stai file path file path ma non ce l'hai ce l'ho fatto prima ah giusto questa è una qstring qstd string di nuovo se non riesco per qualche motivo ad aprire questo file in scrittura errore e poi ovviamente la chiusura è importantissima come si fa la scrittura? come si fa? f operatore di off stream il contenuto del documento è un getter quindi sarà text tra this text text tu plain text ecco qua tu plain text non serve il dis soltanto per invocare i metodi tu plain text questo restituisce una qstring e noi vogliamo una stringa in c++ e basta ho preso tutta la stringona di tutto il file e l'ho riversata tutta dentro di tutto il documento e l'ho riversata tutta dentro il file quindi veramente pochissime righe di codice questo però presuppone che il documento già sappia dove andarsi a salvare però non è detto cioè magari a volte file path c'è a volte non c'è in particolare quando un documento è nuovo il suo file path se noi non l'abbiamo specificato nel costruttore noi qui l'abbiamo specificato qua ma qua non l'abbiamo specificato non specificarlo equivale a dire stringa vuota è un oggetto della classica string o string del c++ che se non viene specificato il costruttore di default va a dire stringa vuota quindi è vuota la stringa e quindi io chiedo a voi adesso qua che devo fare come faccio a capire che devo aprire un file di dialogo una finestra di dialogo per salvare oppure no chi è che mi dà questa informazione se il documento è associato ad un file path valido non devo chiedere all'utente di selezionare il file path se invece il file path del documento non è valido cioè la stringa è vuota devo quindi qual è la if qua if current document file path non vuota ci sono due modi per dire non vuota o diciamo non vuota così non vuota oppure si può usare anche il metodo direttamente size size restituisce la lunghezza 0 è vuota per definizione quindi se è vuota questo è true se è non vuota questo è falso scusate il contrario se è vuota è 0 è falso quindi se se size è uguale 0 quindi se è vuota non ho complicato la vita bastava usare if simply se la stringa file path è vuota significa che questo documento non sa dove salvarsi e se non sa dove salvarsi glielo dico io glielo dico con le finestre di dialogo get save file name questa è la finestra save file è il titolo della finestra la directory non lo so vedi tu il filtro è sempre lo stesso voglio salvare file di testo come abbiamo detto prima dove sta l'open text text tra parentesi punto text questo di nuovo ci da il percorso del file selezionato se è stato selezionato altrimenti ci restituisce una stringa vuota quindi di nuovo dobbiamo fare se non ci ha restituito una stringa vuota quindi se l'utente non si è messo a prenderci in giro e ha davvero selezionato un file solo a quel punto noi possiamo dire al nostro documento che si può salvare su quel file però il nostro documento poveretto c'ha soltanto un metodo save non c'ha un modo per dirgli questo file path quindi cosa manca al nostro documento ecco vi ricordate quando vi ho detto non mettete tutti i getter e tutti i setter così per sport metteteli solo quando servono e beh questo è il caso in cui serve un set serve un set file path string new file path file path uguale new file path questo è il caso in cui dobbiamo settare al nostro documento il file path quindi prima ancora di salvarlo diciamo guarda l'utente mi ha detto dove salvare e io quindi ti assegno un file path set file path te lo assegno e poi ti salvo funzionerà non finisce non finisce qui perché nel salvare poi devo gestire anche le icone i vari stati della tab eccetera però intanto vediamo se questa cosa funziona almeno se va a scrivere nel file quindi mi conviene aprire un file di questo tipo ci metto ciao lo salvo lo chiudo lo riapro e spero ritrovare ciao no non ha funzionato c'è un bug sì ha ragione quindi più che un bug non abbiamo completato tutta la interazione l'interazione è di due tipi esattamente se il file è vuoto se il documento non ha un file associato allora lo associamo altrimenti mancava l'else altrimenti se ce l'ha un file path che dovrò mai fare secondo voi beh semplicemente semplicemente salvalo ma siccome questo sta anche qui io posso fare una cosa più carina visivamente siccome salva lui comunque deve salvare oppure no 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 perché l'utente dobbiamo sempre metterci al riparo degli utenti che ci prendono in giro se l'utente ha un documento non associato ad un file va per salvarlo con la finestra di dialogo ci ripensa non deve succedere niente quindi è giusto che ci siano questi due qui e qui quindi sì sono due gli scenari quello di file esistente cioè con un percorso quindi ci scrivo ciao lo salvo lo chiudo e lo riapro e devo trovare ciao ed è così e poi i casi di un file che non esiste se io premo salva deve chiedermi dove me lo chiede qua scrivo esempio salvo funzionato ma c'è un problema non è apparso non ha cambiato il nome della tab ma penso che questo sia una mancanza nostra nel momento in cui noi andiamo a settare un file path in quel momento il nostro documento è come se cambiasse di stato passa da un documento senza file a un documento con file quindi da che il suo nome doveva essere era new qualcosa adesso dobbiamo cambiare anche il nome della tab quindi dobbiamo dire dov'è che andavamo a mettere il nome della tab da qualche parte come facciamo a cambiare il nome tabs set tab name si può fare set tab text penso che sia il testo della tab non dentro il testo sì perché questi sono contenitori quindi voglio settare lui funziona per indici quindi dammi l'indice index of esiste un index of dammi l'indice del documento corrente questo indice te lo metto in stat tab text che vuole sapere l'indice e vuole sapere il testo e il testo sarà il nome del file quindi current document file name e quindi adesso dovrebbe succedere che quando un nuovo documento viene salvato esempio 2 non ha funzionato vediamo perché perché non ha funzionato beh non ha funzionato forse perché il nostro setter non si deve limitare soltanto a copiare il file path ma dovrebbe visto che adesso c'è un file path anche calcolarne il rispettivo file name quindi questo è il classico esempio in cui il setter non si limita soltanto a fare il set della variabile per cui è predisposto ma fa anche un lavoro supplementare quindi i setter scemotti non ci appartengono più in queste applicazioni più complesse ci dobbiamo ragionare nelle cose quindi adesso il nostro setter ce lo mettiamo intanto nel cpp perché non è un setter banale e oltre a fare il questo deve anche andarsi a calcolare il file name adesso sì che finalmente andando creare un documento e a salvarlo esempio 3 adesso finalmente è cambiato esempio 3 e provo a salvarlo di nuovo non mi chiede più niente ovviamente il testo è già salvato e prova a scrivere ciao ciao e salvo effettivamente dovrei vedere la modifica chissà se non penso se io provo ad aprire più di un file alla volta no non si può fare no non è consentito di aprire più di un file alla volta del resto perché non saprei nemmeno io poi come gestirlo nel codice bene il sabotaggio penso l'abbiamo fatto quello che non è fatto in maniera completa è la gestione di queste icone cioè quando io faccio una modifica se io adesso questo se adesso apro un file e lo modifico cosa succede con un vero notepad che innanzitutto qua l'icona è disattivata perché questo file è già stato salvato se io lo modifico l'icona si attiva come a dirmi guarda lo puoi salvare ci sono modifiche da salvare e in più nel notepad plus plus c'è questa icona che diventa rossa che sta per unsaved cioè qualcosa che deve essere salvato o facciamo questo nei minuti che ci rimangono o passiamo alla prossima cosa da fare anche se la vedo dura cambio documento tab e aggiornamento dell'interfaccia però in realtà questa è una cosa quasi inerente a quello che sto appena dicendo cioè l'interfaccia quando io faccio delle cose con un documento che ho davanti o cambio documento deve reagire cioè quel pulsante innocente che vediamo qua sopra questo pulsante innocente è un pulsante che in realtà è collegato allo stato della tab del documento se il documento è da salvare ha modifiche da salvare allora è attiva altrimenti quel pulsante non è attivo ok quindi quindi ci manca qualcosa nella nostra modellazione degli oggetti cioè come faccio a dire un documento ha modifiche da salvare o non ha modifiche da salvare questa è la domanda a cui vogliamo adesso rispondere nel codice che dobbiamo aggiungere qua innanzitutto è una proprietà del documento un documento ha modifiche da salvare o non ha modifiche da salvare è un booleano che tra l'altro ce lo suggerisce anche il nome dell'icone c'è l'icona saved e c'è l'icona unsaved quindi questo ci fa capire che è un booleano che possiamo chiamare benissimo saved saved significa che una copia di questo documento sta sul disco falso significa che questo documento che io ho davanti sta solo qui e non è sul disco non è allineato con il disco dovrò fare dei setter e dei getter non lo so quando ne avrò bisogno lo farò però sicuramente questo saved lo devo inizializzare da qualche parte il costruttore di default che non prende in ingresso nulla cioè che crea un documento vuoto secondo voi a cosa lo devo settare no perché il documento è vuoto e il documento per definizione è vuoto è vuoto non c'è nulla da salvare per certi vesti quindi mi verrebbe da dire true altrimenti significa che io posso salvare un documento vuoto è un po' una cosa di filosofia cioè magari qualcuno non è d'accordo e ha ragione vediamo che ne pensa il notepad++ pensa che un documento vuoto non sia salvabile e quindi noi copiamo e non è da salvare un documento che io appena ho aperto beh questo significa che è allineato al disco cioè non c'è niente da salvare quando è fosse invece significa che c'è qualcosa da salvare bene mi verrebbe da dire che siccome l'interfaccia si deve aggiornare in funzione del fatto che un documento è o non è da salvare sicuramente ci sarà un getter quindi ci sarà un bool saved che restituisce il saved del documento però c'è un altro problema come facciamo noi ad andare dentro questo documento e settare questa variabile a true quando qualcuno modifica il documento perché il momento in cui il documento passa da diciamo non c'è nulla da salvare a c'è qualcosa da salvare ecco vedete che è cambiata l'icona e infatti c'è anche l'esterisco è il momento in cui l'utente scrive qualcosa dentro quindi questo mi fa capire che di nuovo qui c'è la programmazione ad eventi cioè devo catturare l'evento il segnale utente ha scritto qualcosa e chi è che mette questo segnale sì ma in questo caso dato che hanno utilizzato il documento è durato a cancellare senza fare a due eh no eh sì però è comunque considerata una modifica cioè non siamo così intelligenti da capire che una serie di modifiche ci ha riportati appunto di partenza modificato e modificato lui è talmente intelligente che l'Handu ha fatto proprio quello che ha detto lei ho fatto Handu e lui è diventato di nuovo blu come dire non c'è niente a modificare noi non siamo così ci vuole è complesso fare questa cosa però sì essere precisi se io torno in uno stato di nuovo uguale a quello iniziale non dovrei salvare nulla però vediamo non ci credo che lo fa non ci credo no nemmeno lui è così intelligente ma stiamo pretendendo davvero troppo persino da notepad plus plus quindi ragazzi chi è che emette il segnale sono stato modificato per forza il documento ma il documento chi è? il documento è un qtext edit quindi dobbiamo andare nella documentazione andare a vedere se da qualche parte c'è un segnale che ci fa al nostro caso ed effettivamente sì text changed cioè tanto c'è anche cursor position changed quindi ci fa capire che questi segnali vengono emessi quando il cursore cambia posizione e questo potrebbe essere utile per mettere nella status bar il numero di linea e di colonna però non è molto utile non lo facciamo adesso questo invece sì quindi text changed quindi noi in realtà chi è che deve catturare questi segnali? la main window o il documento? forse la main window sì perché sì per forza la main window perché se un documento è stato modificato bisogna modificare anche la grafica dell'applicazione quindi sì sicuramente la main window quindi creiamo uno slot void document changed modified come vi come vi pare e dobbiamo andare poi a connetterlo qua dentro e stavolta però ragazzi dove lo connettiamo? non possiamo connetterlo nel costruttore perché questi sono segnali emessi da ciascun documento aperto e nel costruttore non sappiamo ancora quali documenti aperti quindi chi è? qual è il momento in cui i documenti vengono creati? nel new e nell'open quindi questa connessione dobbiamo farla in entrambi i casi perché questo è il momento in cui un nuovo documento viene creato e quindi i suoi segnali devono essere intercettati quindi connect voglio ascoltare segnali di doc segnali di tipo document e li voglio connettere al mio slot che si chiama document changed questo sia qui sia in open però in open in open solo qui non ovviamente qui quindi solo quando un nuovo documento viene creato non che si seleziona uno già esistente quindi a questo punto vado nello slot a definire un nuovo slot void main window document changed mi sa che trasporta anche document changed no non trasporta nessuno non trasporta niente perché text changed quello è il documento che ecco no questo stavolta stavolta è interessante abbiamo intercettato il segnale che un documento è stato modificato quale documento e che ne sai magari mentre lo sto modificando ho cliccato un altro documento se sono così veloce ce la posso pure fare sì è difficile però è un'ipotesi forte no che ne sappiamo che magari il documento ha uno strumento di autocorrezione quindi si autocorregge mentre io non lo sto selezionando quindi io in realtà sto un po' forzando le cose perché voglio usare uno strumento che abbiamo visto di recente quale strumento visto di recente posso usare per sapere quale documento ha generato il segnale l'introspezione l'introspezione quindi chiedo a QObject chi è che è stato a mandare questo questo segnale lo converto in documento quindi documento doc sender cioè il documento che ha generato questo segnale lo vado a chiedere a Qt a QObject che ha l'introspezione a questo punto il documento è stato modificato quindi posso dire se tutto è andato bene cioè se davvero tu se quello che ha generato il segnale è davvero un documento posso dirgli per esempio set se abbiamo fatto il set set saved l'abbiamo fatto? non l'abbiamo fatto quindi questo fa capire che ci serve un set void set saved bull saved no però corrisponde new saved save uguale new saved quindi se abbiamo fatto una modifica il documento non è più allineato in stato saved significa che è allineato rispetto al suo documento quindi e quindi bisogna fare una modifica e quindi cos'altro bisogna fare nel momento in cui un documento ha delle cose da salvare cambiare l'icona quindi tabs set icon set tab icon vuole sapere l'indice maledetto sempre costo indice quindi tabs index of doc sender vuole sapere l'icona l'icona sarà icons unsaved punto ico è l'icona che ho salvato se tutto ha funzionato dovrei vedere adesso che se apro un nuovo documento e lo modifico se apro un documento esistente lo modifico quest'icona deve diventare rossa pronti? così come se io creo un nuovo documento e lo modifico l'icona diventa rossa però se il documento lo salvo l'ha salvato ma l'icona rimane rossa quindi d'altra parte quando salvo qualcosa devo dire che 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 è salvato quindi il documento quando si salva deve aggiornare la sua variabile saved a true quindi saved true non basta devo cambiare l'icona qual è il momento in cui si salva per esempio il momento in cui si salva è qua dentro e il momento in cui si salva è su tutte e due e quindi ma una cosa che posso fare è chiedermi a prescindere da tutto quello che è successo se il documento corrente è is saved no saved saved se il documento corrente è in uno stato di saved io riaggiorno la dove sta la l'aggiornamento dell'icona poi magari la prossima volta la faccio in maniera più elegante cioè tutte queste cose stanno in un unico termine che si chiama update cioè quando cambiano tante condizioni bisognerebbe invocare un unico metodo che fa tutti questi controlli e cambia l'interfaccia in funzione di quello che c'è da fare quindi non solo cambiare l'icona della tab ma anche cambiare l'icona che sta là sopra ma adesso non abbiamo il tempo di farlo finiamo solo questo vediamo se funziona quindi se il documento da corrente è stato salvato io devo devo andare a mettere l'icona del salvato e allo stesso tempo devo questo è facile la facciamo subito l'icona di save action la devo disabilitare set enable false quindi la disabilito se è salvato e se non è salvato perché documents change la devo abilitare e di default questa icona parte disabilitata quindi quando la creiamo save action save action qua quando la creiamo la creiamo disabilitata perché quando parte l'applicazione non c'è nulla da salvare e quindi è giusto che sia disabilitata quindi nuovo documento faccio così si abilita apro un altro documento e faccio qualche modifica salvo e si disabilita però seleziono questo e rimane disabilitata perché non abbiamo fatto la cosa successiva che faremo la prossima volta cioè cambio documento tab e aggiornamento dell'interfaccia adesso abbiamo fatto modifica del documento e l'aggiornamento dell'interfaccia ma non abbiamo fatto la cosa collegata che è il cambio del documento vi lascio solo con una curiosità quindi la lezione comunque finisce qui però vi faccio vedere una curiosità come appare questa applicazione su Mac l'ho compilata al volo questo è come appare mi pare che sia abbastanza sì in Mac le mette al centro le cose però alla fine penso che sia comunque non è proprio forse era più bella quella Windows però comunque è un'applicazione che abbiamo costruito per tutte le piattaforme ci ritroviamo qualche cosa in più perché il Mac ha una cosa particolare e deduce dai nomi dei menu il loro significato quindi se io ho creato un menu edit queste due cose io non le ho messe nella mia applicazione ma il Mac le ha messe per me e quindi mi ha messo uno strumento di dettatura quindi ciao ciao e mi dovrebbe scrivere ciao 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 ok e dovrebbe scrivere ciao ciao quindi il Mac mette delle cose in più però è soltanto una cosa del Mac e soprattutto assorbe l'about l'about lo mette nel menu dell'applicazione che ha creato non c'è più l'about qua l'ha messo qui quindi se avete un Mac e vi rendete conto che non è esattamente come abbiamo visto in classe perché il Mac aggiunge e sposta delle cose in funzione dell'usabilità che hanno il Mac ha dei principi di usabilità che deve rispettare anche se l'applicazione l'abbiamo fatta in maniera cross platform bene oggi una lezione più lunga del solito mi scuso ma dovremmo finire queste cose sì